proseguono le avvincenti puntate di un posto al sole la soap opera partenopea in onda su rai tre da oltre 20 anni da non perdere la puntata del 6 agosto 2020 nella quale patrizio dovrà affrontare la furia di alberto il ragazzo dopo aver concluso la sua storia con rossella non ha più voluto sapere nulla dell'amore la conoscenza di clara però ha cambiato la sua prospettiva patrizio ha avuto un colpo di fulmine per la compagna di alberto che sta vivendo un momento molto difficile punto patrizio si è subito prodigato per aiutare clara preparandole dei piatti deliziosi e facendoli alla spesa alberto in un primo momento non ha fatto molto caso all'interesse del giovane chef ma arriverà il momento in cui aprirà gli occhi nelle puntate di un posto al sole di questa settimana inoltre ci saranno degli sviluppi dopo la separazione tra filippo e serena che non sarà più completamente convinta di continuare la sua relazione con leonardo un posto al sole anticipazione giovedì 5 agosto 2020 su rai 3 patrizio non ha intenzione di lasciarsi intimidire anche perché ha sentito spesso alberto urlare contro la povera clara che non si azzarda reagire il palladini capirà che patrizio fa sul serio e così lo affronterà a viso aperto intimandogli di stare lontano da clara e dalla sua casa stando agli spoiler di un posto al sole inoltre rossella si troverà in difficoltà per via di un imprevisto all'ospedale e l'aria pensante di casa non le sarà d'aiuto tra lei e silvia infatti ci saranno ancora delle incomprensioni punto nella puntata di un posto al sole di giovedì silvia si arrabbierà con rossella e michele che non sembrano fare nulla per aiutarla nelle faccende domestiche la donna avrà un'idea che potrebbe essere vincente che cosa avrà in mente intanto susanna e nico avranno ancora delle incomprensioni lo stretto rapporto tra l'avvocatessa e nicotera non ha di certo giovato alla coppia susanna risolverà i suoi dubbi in merito all'imminente matrimonio con nico serena ripensa filippo le anticipazioni della puntata di un posto al sole che andrà in onda giovedì 6 agosto 2020 su rai 3 svellano che serena ripenserà ai momenti belli vissuti con filippo che non molti giorni fa le ha confessato di essere disposto a dare una seconda possibilità al loro matrimonio leonardo dovrà farsi da parte infine gli spoiler di un posto al sole del 6 agosto raccontano che filippo vorrà distrarsi il sartori passerà del tempo con irene anche in questa circostanza serena capirà di aver voglia di riprovare a stare con lui punto segui contro cultura su instagram clicca qui e e e e e e Grazie a tutti.